8 prima di partire di tu impari il tuo amo che è questa lentamente offerta da DCM peschie grazie Giacomo a quella data ragazzi non sono cresciute le montagne a bergamo ma siamo a ponte ci vedete qua d'estate ma è inverno però si gira comunque in bici e oggi vi portiamo a fare un sentiero pedonale no tagliamo questa parte non è pedonale e basta qua non so se vi conoscete d'estate ci siamo passati un botto nel park lì sono i drop ma c'è il pussiotto non vuol fare i drop perché sotto c'è il ghiaccio ma non li faremo nemmeno noi niente sono meglio di essere pulito qua sopra e a massio ci facciamo una discesa sulla valvione snake attenzione pista down e niente cambio di programmazione stiamo qua a fare una videoregistrazione vai ste curvettini qua non penso faremo un trail perché qua è davvero bello c'è un treno figo e quindi basta adesso faremo video l'otto attenzione 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 L'atleta, la virtù, l'eutanasia, il desiderio, il noso, ma no. Vorrei inquadrare, azzurrino, azzurrino, azzurrino. Ah no, forse ha fatto clac. O non far salti troppo grossi, se non prendiamo un 400 euro di ronore. Perché non si aggancia? Non sto piar forte. Dopo aver finito il video del cazzo, andiamo. Andiamo a fare un sentiero sicuramente per bici. Perché sono immenso, sto fermo. Andiamo a fare un sentiero sicuramente per bici. Otto mi fa un follow, c'è la GoPro attacata storta. E se vedete il video, perché resistito. Ciao. Porca troia il pedale. No, fermo, fermo. C'è, raga, qua c'è. La sgrabbatina. Sgrabbatina. E poi doppia tira, doppia tira con sottoghi di pila. Sgrabbatina, tutta un'altra. No, 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 no. Ho usato la mortale e c'è il ghiaccino. Ma col cazzo, eh? No, non facciamo. Però dovremmo scendere. E lì invece... Fidati di me, facciamo una linea proprio a cazzo duro, filo. Come ti dico? A cuore, poi entriamo in pista. Il dolore va rappresentato. Porca no! Vai, vai, vai. Ma sensibilità, vai, figa. Vai, vai, vai. Non lì che morbida. Ah, invece no. Siede, siede, seguo un'integrazione otto, assurda. Stanchi ma felici, siamo arrivati in cima. Adesso il pippo proverà a farci un... Così. E là, è caldo. Noi ci siamo, andremo a filmarlo. Artondino? Hai detto che siamo... Adesso partiamo. No, fai così. Così, sì. Ah, coglione! Adesso partiamo, raga. Non so come sia. Quanto manca per... Quello che so. Tempi tecnici. Eh? Tempi tecnici. Udi eagle! Paura vera! Te la ricordi lì che c'è il buco? Quello che non ti è piaciuto dove... Aspetta, partiamo un secondo. Ma felice, dai! Oh! 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 no ma è bello vedere i sassi dalla GoPro oh il dolore il male cane uspiazza vai vai Incazzato Niente, siamo arrivati in fondo Ce l'abbiamo fatta, sopravvissuti A quel buio totale, a quei sentieri Non vabbè, non erano infattivi Non si vedeva un cazzo Vabbè E basta Questo video finisce qua A Ponte di Legno, ora sapete cosa fare Se venite nei mesi Di pausa Nella off-season a Ponte di Legno E niente, basta, ci vediamo Ciao amori Aspetta Ci vediamo Tra due mercoledì Non quello che arriva, quello dopo Forse ci uscirà un video Se il Giacomo vuol fare i video Basta, saluto, ciao belli Cerchi mai bozzati Avranno 300 km Sti cerchi Bastardo Guardate che bella Proviso logo Grazie a tutti Grazie a tutti